Tirre in Ambiente è nuovamente finita sotto la lente della magistratura. Ieri è scattato il sequestro da 4 milioni di euro nei confronti di ex vertici della Tirre in Ambiente. S.P.A., la società a partecipazione pubblica che ha gestito la discarica di Mazzarra Sant'Andrea, al centro già di numerose indagini. Otto le persone finite sotto accusa questa volta, ma il sequestro è a carico di quattro di loro. Si tratta di Giuseppino Innocenti, Giuseppe Antonioli, Rosario Carlo Noto Laddiega e Francesco Cannone. In totale sono stati denunciati due rappresentanti legali della Tirre in Ambiente per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e sei rappresentanti legali della società incaricate di svolgere le prestazioni per emissione di fatture per operazioni inesistenti. Secondo la procura di Messina, che ha svolto le indagini tra il 2011 e il 2013, le casse della società sono state svuotate mediante un complesso sistema di false fatturazioni e che parte del denaro lecitamente fuoriuscito è rientrato nelle tasche degli ex vertici dell'azienda attraverso società in cui gli stessi rifestivano importanti cariche sociali. In particolare è stato riscontrato che le società avrebbero fatto ricorso sistematicamente all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture rivolgendosi o ad aziende riconducibili alle quattro persone colpite da sequestro. Queste società, nella maggior parte dei casi, erano allo stesso tempo clienti e la Tirreno perché ricevevano commesse appalti e soci della Tirreno in quanto membri della componente privata, il 49% dell'impresa. Gli altri quattro denunciati, non colpiti da misure di sequestro, sono Antonio Crisa Fugli, ex presidente del CDA di Tirreno Ambiente Pietro Cesaro e Pietro Gelfi, rappresentanti legali di altre due società coinvolte nel giro di fatture false e Silvio Gentile, ex amministratore delegato di Geseno.